eva tutto a posto quel pannello elettrico si si sono vent'anni che faccio elettricista so quello che faccio lascia fa qui Eh sì, quindi ecco a volte non c'è neanche bisogno degli incursori ucraini perché gli operai russi ci pensano da soli Salve amici e amiche, oggi un video breve perché è tutto il pomeriggio che sto andando avanti a realizzare video ma non vi vengono passati per la monetizzazione su YouTube Avrei voluto parlarvi delle presidenziali americane perché ci sono state delle dichiarazioni a dir poco scioccanti di Mr. T che non posso neanche citarle perché a quanto pare il problema sono quelle sono più demonetizzate quelle che i video che arrivano dal fronte, giusto per darvi un'idea Comunque sì, la situazione sta peggiorando, ecco, nella situazione lì, nelle presidenziali americane quindi non tratterò quell'argomento ma vi porto alcuni aggiornamenti proprio da parte, da fonte russa Ora, questo è Alexander Bordai, membro della Duma che descrive tranquillamente in una conversazione al telefono lo stato di fatto delle truppe russe e dice che chiaramente chi si arruola, firma i contratti, quelli con i bonus economici non parlo dei coscritti quindi non parla dei detenuti ma parla della gente comune russa che si arruola per prendere il bonus, i soldi letteralmente quelle persone secondo lui sono semplicemente carne da cannone detto francamente, quello che dice è che queste persone il loro scopo è quello di essere mandate avanti per fiaccare le forze ucraine, per impegnarle e in qualche modo usurare la loro esistenza quindi la loro fine non importa, questa carne da cannone e così permette alle truppe più forti dietro di ottenere i veri risultati una volta che le truppe ucraine si sono stancate quindi dice letteralmente cosa vuoi che importi di gente che magari è più là con gli anni che non ha ottenuto risultati in Russia, che è lì per i soldi tanto, cioè è normale che si arruolano visto che prendono qualcosa come 20, 30, 40 mila rubli al mese 200, 300 euro al mese, stiamo parlando nella zona più ricca che è quella di Mosca è chiaro che hanno la grande prospettiva di ricevere 250, 260 volte tanto con 30 mila euro di bonus, per loro sono cifre esorbitanti quindi si arruolano e siccome dice sono persone inutili che non servono a niente è normale che vengano trattate come carne da cannone quindi sì, questa è la considerazione di Bordai per la soldataglia e stiamo parlando ormai di qualcosa come 700 mila uomini scomparsi, non stiamo parlando di cifre così piccole anche a ribasso questa cifra potrebbe essere tranquillamente superiore al mezzo milione di uomini caduti fino ad oggi il che è tutto dire, insomma, sullo stato delle forze armate russe fra l'altro mi collego a un commento che ho ricevuto proprio ieri di un utente, di un caro amico che si stupiva del fatto che questi assalti vengono condotti in modo completamente privo di preparazione militare, professionale diceva appunto che quando aveva fatto il militare lui la preparazione minima era organizzarsi in file di mezzi coordinati scendere con ordine, fare degli assalti coordinati quello che si vede in Russia in realtà è appunto tutto fuorché una organizzazione militare e questo numero un po' spiega quello che succede alla fine avevo prodotto anche un altro video che parlava proprio dei numeri delle perdite fra le file russe e le stime prima del conflitto parlavano sì, la Russia poteva avere anche un milione di uomini da mandare al fronte in teoria, ma di quel milione di soldati se dovessimo fare un paragone con le truppe europee con la preparazione professionale delle truppe europee circa si diceva che 5.000 soldati russi avevano quel tipo di preparazione paragonabile alle forze, alle truppe specializzate europee quindi questi numeri un po' spiegano quello che sto dicendo comunque dalla Russia arrivano anche filmati assurdi dove ci sono puntualmente degli immigrati persone che cercano la residenza in Russia che vengono da paesi poveri del terzo mondo a cui viene tolto il permesso di soggiorno quando questi non si arruolano ed è il caso di questo signore nome impronunciabile per me ma credo che sia Mamzon è un cittadino uzbeko di 30 anni che se è entrato in Russia per ottenere il permesso di soggiorno quindi la cittadinanza russa il 28 agosto scorso dopo due settimane però non si è arruolato come dovrebbe essere dal suo visto previsto dal suo visto e a questo punto il municipio locale lo ha chiamato per revocargli il permesso di soggiorno dicendogli guarda devi andare via dalla Russia per 5 anni e lui ha detto va bene ok me ne vado a questo punto ma guarda caso spunta un ufficiale di reclutamento nello stesso momento e guardate la scenetta sentite che dicono si sieda dice l'ufficiale e il tizio dice no non voglio sedermi mi va bene lasciatemi pure andare via dice non mi interessa più la cittadinanza basta che mi mandate via la signora dice ok non puoi rientrare in Russia per almeno 5 anni va benissimo dice lui si alza lui col sorriso e dice vorrei offrirti la possibilità di servire nelle forze armate così che nel momento in cui entri a far parte delle forze armate avrai la possibilità di accelerare il tuo processo di cittadinanza comandante comandante tenente non ho bisogno di niente grazie ovviamente questo cittadino uzbeko sa benissimo che se dovesse arruolarsi sarebbe un viaggio di sola andata altro che cittadinanza e questo fa impressione che anche tutti cominciano a percepire a sentire l'andazzo di questi arruolamenti ora altro video questo è un video che arriva da un soldato sempre russo che mostra questa scatoletta di carne in scatola chi conosce il coreano me lo dica così che possa avere la certezza perché a quanto pare ecco a quanto pare sulla confessione e poi anche l'interno sembra devo essere onesto non ve lo posso mostrare c'è scritto cane giallo che dovrebbero essere questi i neurogi dovrebbero essere tipo questi con questa pelliccia gialla credo spero di no spero di sbagliarmi ora parliamo invece d'altro di questo aereo svedese che sarebbe dovuto essere stato consegnato alle forze aeree ucraine almeno credo che anche il red comet ne abbia parlato qualche tempo fa io sono stato più cauto onestamente perché questo è un pezzo dello stato dell'arte della tecnologia svedese cioè è un aereo che si affianca per esempio agli eurofighter ai griffen è una sorta di mini awax in stile tecnologia europea è più piccolo delle tre centri americano che è quel grosso aereo tipo boeing con le antenne a padella quelle tonde sul dorso questo invece ha un'antenna piatta che fa scansioni laterali la notizia è pessima perché cosa dice in sostanza erano previsti almeno due di questi aerei per le forze aeree ucraine ceduti dalla svezia poi in realtà nessuno di questi è stato consegnato si parlava di uno ultimamente e poi neanche quello è stato ancora consegnato a quanto pare gli stati uniti non vogliono cederlo cioè perché perché all'interno di questo aereo anche se è prodotto dalla svezia ci sono tecnologie americane e questo è diciamo plausibile nel senso perché possa operare come awax all'interno dello schieramento nato deve per forza comunicare con i datalink nato e trasmettere informazioni alla nato e sì è un aereo molto importante metterlo su un campo di battaglia con anche se dovesse volare sul territorio ucraino c'è sempre il rischio che possa cadere in mano russa quindi e sarebbe un grosso problema da questo punto di vista capisco la reticenza americana anche se non la condivido però ecco sarebbe sicuramente un aereo molto utile alle forze aeree ucraine perché permette appunto una picture cioè fornisce una consapevolezza situazionale a tutte le forze in campo non solo agli F-16 anche per esempio eventualmente se modificati opportunamente ai su 27 ucraini così come alle forze di terra alle forze navali perché il radar di questo aereo è un radar AESA che lavora in banda S cioè sarebbe in realtà la E-F in terminologia nato che è una banda da early warning radar è un tipo di frequenza specifica per la scoperta di oggetti in volo ma anche di scansioni verso il terreno quel tipo di frequenza che viene usata in alcune antenne per esempio del controllo dello spazio aereo ed è molto utile perché permette con la sua potenza è la tecnologia Pulse Doppler di identificare oggetti in tutti gli aspetti quindi a prescindere da come sono disposti altitudini e ha anche la capacità di penetrare per esempio sistemi temporaleschi quindi a prescindere dalle condizioni meteorologiche ovviamente questo è un po' a discapito di una grande di un grande raggio di scoperta infatti non è tantissimo come capacità di scoperta è un radar che ha capacità fino ai circa 400 chilometri di raggio il che comunque sarebbe già tanto per l'Ucraina che ne ha fortemente bisogno se parliamo almeno di un radar aviotrasportato di ricerca potente che li possa aiutare a identificare da lontano tutto quello che arriva verso il loro territorio parliamo di aerei missili e droni restando sempre sul tema di aviazione dei B-52 sono stati visti sui cieli del Mediterraneo ancora sono in questi giorni sono in volo sopra il Mediterraneo ne ho visto io stesso oggi uno transitare in quest'area fra la Sicilia e Israele nel Mediterraneo orientale e sono accompagnati vedete questi aereo rifornitori questi aereo cisterne in questi circuiti dall'Inghilterra e per acrotiri dal nord dell'Europa fino al sud-est fanno continuamente questi tracciati e se volano qui è perché permettono ai B-52 di restare in volo per tanto tanto tempo ora i B-52 è chiaro che parliamo di un bombardiere strategico questo è un esempio di payload che può portare quindi che va dalle bombe a caduta libera classico in stile seconda guerra mondiale fino alle bombe di precisione come queste bombe a penetrazione specifiche per obiettivi profondità e poi per esempio questo è il classico rullo che può portare nella stiva che trasporta tipo fino a nove Tomahawk una cosa del genere missili da crociera l'equivalente del Tomahawk ora non ricordo quale comunque sì queste sono le sue corde per l'attacco al suolo poi può trasportarne anche altri nei piloni subalari però una cosa che bisogna ricordare è che il B-52 in realtà è oggi anche una piattaforma per la guerra elettronica in quanto ha un potente radar di ricerca che è specifico per individuare oggetti al suolo oggetti metallici tracciarli mapparli presentarli alle diverse forze NATO con cui è progettato per collaborare e così anche può fornire dati molto importanti alle forze ucraine in particolare questo radar ha la grande capacità di rilevare per esempio oggetti in movimento che possono essere navi o anche carri armati per intenderci mezzi metallici che si muovono sul campo di battaglia tutto quello che è in movimento quindi la postazione B-52 è molto utile anche per questo non solo come bombardiere in senso tradizionale nel comunicato viene detto che l'USA Air Force ha comunicato questa partecipazione con la NATO nelle operazioni congiunte a volte all'addestramento e migliorare l'efficienza nella collaborazione proprio interforse e questo è quanto quindi oggi video breve rispetto a ieri che è durato molto di più quindi vi auguro un buon fine settimana e vi lascio con un'immagine emblematica cioè come sapete Steven Seagal ha deciso di arruolarsi nelle forze armate russe ora per quanto possa essere ridicola questa affermazione non so quanto potrà essere vero che venga mandato avanti la sua utilità anche perché mi ha fatto ridere che qualche tempo fa quando ne avevo parlato uno di voi non ricordo chi aveva detto ma dove vuoi che vada che fa due metri e si deve sedere visto che è ingrassato un sacco e non a caso di lui arriva una foto oggi e questa è la foto infatti sta seduto e sì quindi con questa bella immagine vi saluto signori e vi auguro appunto una buona serata e mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete fatto lasciate un mi piace anche a questo video non voglio minacciarvi come fa sempre il mitico avvocato Catania però ecco vi ricordo che l'iscrizione e lasciare mi piace è fondamentale per aiutarmi a crescere e come sempre un abbraccio alla prossima